Questo è il quarto della serie di video con i quali Alcamondo Blog vi mostra pericolosi dissesti stradali che si presentano ad Alcamo. Nei precedenti tre filmati è stato possibile riscontrare la situazione in via Mendola nel corso 6 aprile in via Pietro Maria Rocca. In queste immagini ecco la rotatoria in via Spirito Santo accanto al cimitero. Ed è anche in questa rotatoria che il comune di Alcamo ha in programma di intervenire per effettuare la manutenzione stradale. In attesa delle procedure per avviare tali lavori in questo tratto di strada si segnala intanto la presenza di buche pericolose che dopo essere state rattoppate, almeno peggio, quando piove si riaprono. Situazione che non può essere trascurata e occorre quindi mantenere massima prudenza e attenzione mentre si percorre anche questi importanti rotatori in uno dei principali ingressi della città di Alcamo. Grazie a tutti.